Arte, storia, fede, tradizioni e spettacolo saranno gli ingredienti dei prossimi appuntamenti in calendario nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014-2020 e che vede protagonisti sei comuni del Vallo di Diano con Teggiano, Comune Capofila, insieme a Sassano, San Rufo, Monte San Giacomo, Sala Consilina, San Pietro, Altanagro. Dopo gli eventi promossi a Teggiano, il rinvio deciso dall'amministrazione comunale di Sassano per la proclamazione del lutto cittadino nel piccolo comune guidato da Domenico Rubino ripartano gli appuntamenti organizzati nell'ambito del progetto denominato Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia. In questo mese di settembre l'arte pittorica sarà protagonista degli appuntamenti organizzati sia a Sassano che a Sala Consilina. Nell'ambito dell'evento Settembre al Borgo, infatti, si terrà il concorso di pittura su tela che vedrà anche il coinvolgimento degli studenti del liceo artistico di Teggiano. Oltre al concorso di pittura è previsto a Sassano anche l'allestimento di una mostra nel piazzale antistante la Chiesa Madre di San Giovanni Battista dal titolo Sassano nella storia. Previsti inoltre momenti culturali e di spettacolo senza dimenticare i sapori tipici di Sassano con l'appuntamento culinario che da anni si svolge nel centro storico sassanese per la degustazione del tipico raviolo. Durante la tre giorni sarà anche possibile visitare tre antiche chiese di Sassano, San Giuseppe, Santa Lucia e la Chiesa della Madonna Cielo e Terra. Inoltre saranno proposti tanti spettacoli sia musicali che di teatro. Intanto anche a Sala Consilina c'è fermento per la realizzazione degli appuntamenti programmati nell'ambito del progetto, partendo dalla storica iniziativa dedicata alla pittura con gli artisti chiamati ad imprimere su tela uno scorcio di Sala Consilina nell'ambito dell'iniziativa denominata Sala Ieri, Oggi e Domani. Con le opere prodotte sarà allestito una mostra dedicata presso l'antico Palazzo Fiordelisi visitabile dal 20 al 30 settembre, mentre una giuria tecnica sarà chiamata alla valutazione delle opere per individuare i quadri vincitori. Tre le opere da selezionale che riceveranno poi i premi messi in palio per il concorso con la consegna che avverrà nella serata del 30 settembre in piazza Umberto I Sala Consilina in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo e prima dell'inizio del concerto previsto nell'ambito del progetto con l'arrivo del centro più popoloso del vallo di Enzo Avitabile e i Bottari.